Anche il centro commerciale Palermitano Forum, nelle mani della mafia, o meglio, tirato su grazie a quest'ultima. Stando a quanto riporta Live Sicilia, i finanzieri del GICO starebbero passando al setaccio una serie di documenti, prelevati da diverse società al momento non indagate, per vederci chiaro. Due filoni dell'inchiesta sul riciclaggio aggravata dal metodo mafioso, che vedrebbero coinvolte le due famiglie mafiose, dei Guttadauro e dei Niceta. Secondo l'accusa, infatti, il centro commerciale sarebbe sorto su alcuni terreni di proprietà dei fratelli Filippo, Giuseppe e Carlo Guttadauro. Il primo ambasciatore del cognato Matteo Messina Denaro nei rapporti con Bernardo Provenzano, il secondo a capo del clan di Brancaccio e il terzo condannato per estorsione. Ipotesi quella dell'acquisto dei terreni, confermata in passato dal testimone di giustizia Angelo Niceta, che raccontò di aver visto al matrimonio del cugino Massimo Francesco Guttadauro e la sorella Maria parlare di business. So che si discusse per l'apertura di un nuovo centro commerciale a Brancaccio, ha dichiarato Niceta. Mio cugino Massimo disse a Guttadauro, già vi siete presi 40 milioni di euro per la vendita dei terreni, ma lui rispose che i soldi dovevano spartirseli in tanti e che erano già finiti. Racconti però sempre smentiti dai Niceta, che hanno pure denunciato Angelo per calunnia. Nessuna delle società dalle quali è stata prelevata la documentazione sarebbe al momento sotto indagine, ma il sospetto dei PM Carlo Marzella, Francesca Mazzocco e Pierangelo Padova è quello che i Guttadauro potrebbero essere riusciti a strappare dei subappalti attraverso delle imprese a loro riconducibili, magari all'insaputa degli stessi appaltatori, e che sarebbero stati gli stessi Guttadauro, in virtù dei rapporti con Niceta, a fargli ottenere uno dei migliori spazi espositivi all'interno del centro commerciale. Grazie. 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 Grazie.